benvenuti in questo nuovo video di minecraft oggi dobbiamo sopravvivere a dei labirinti bruttissimi allora come tu puoi vedere mi sa che nel levatore tu non hai niente giusto? chiudo tutto, tieni questa bellissima spada, questa bellissima tipa e questa bellissima piccola, ok ma aspetta, ahia mi ha tolto quattro cuori, quattro, allora a 3 iniziamo, a 3 in 1 via livello 1, ecco, dobbiamo trovare un bottone nascosto, c'è un bottone ma è un labirinto, e si è simile a fin del butto, ecco trovato, premilo, clicca, livello 1 finito, sei già andato via te? si, ma io no, devi trovarlo, dimmi dov'è, è una piattaforma azzurro con un bottone di air, scritto, can you escape? eh ma io non lo trovo più, eh eh devi trovarlo, io all'avanti oh mamma mia tre, si fa il blocco dell'estero giù non lo metto giù non lo metto ma ho già ma èzę illuculare eccola ho trovato benissimo ragazzi abbiamo comprato il livello 1 vieni nel 2 e dovrei cliccare start ok eccoli oddio c'è la lava maledetta lava c'è le cose si è spawnato fuori si non posso più cliccare il bottone allora aspetta che trovi il livello 3 porca miseria però dai non ci vuole proprio tanto è ben nascosto questo questo bottone ma dai vicolo cieco ce l'ho chiusa fuori come si è chiusa fuori? si con questo spaccarretto piccolo qui non è una via per scappare mi sono trovata di creativa che cazzo mi sono trovata di creativa c'è qui il bottone per forza c'è ben nascosto qui a questa parte ragazzi io sto cercando ma non vedo qui c'è la lava ma qui non c'è più niente niente ragazzi mi sono perso sono troppo difficili non è che ti stai annoiando che non trovi il buco ecco la lava la sta cercando di evitare ok ecco sono spawnato qui no raga io non lo trovo il bottone comunque è un po' difficile da trovare diciamo che è difficile ma non tanto ma tu sei fuori? si ma mi fa metterla creativa perchè mi fa metterla creativa? e perchè non posso prendere dentro un labirinto così eccitare ma per te io non posso più stare fuori non posso neanche più scavare e prendere dentro c'è il bottone scava? non posso come non puoi no no sono morto anche io si rispacco qua ok arriva sono qui nooo devo iniziare no guarda questo è follia porca miseria questo è follia cioè raga devo com... grazie dove era? eh eh 2 numero 2 no raga raga io non mi ricordo più dove era porca miseria che truffatura c'era un buco ahhh sai mi ricordo c'era un buco ho saputo tutti piccoli ciechi sono qui sono beludu ok ho citato non lo 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 ho citato ho spaccato dei blocchi per arrivare in quello 2 non c'è niente qui vero lava 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 è difficilissimo questo ahia ok la lava è la cosa dove eh no dimmi dove non lo so è un vicolo cieco quindi un vicolo cieco si dove era io non lo so io non lo ricordo mi voglia cercalo ho trovato anche l'altro non è possibile è sopravvissima di fare lo di linti ho finito la mappa sono tre livelli così pochi si si rischia vabbè sono solo pro lo rifaccio ah l'ho trovato adesso adesso era meglio faccio il 3 oddio il 3 è easy il 3 è stato più easy del previsto anche io trovo l'uno ok ragazzi no no il livello 2 è il peggiore il livello 2 vuole detto non riesco a trovarlo è tarangi no tarangi un corno jacob e vi faccio schifo ci sta per il duplicato il duplicato non riesco non riesco se può dare un alb eh sì 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 No, no, no. Quei labirinti Quei labirinti Sono dei maledetti Quei labirinti Tratta Livello 3 Sono con te Sì Ah so dove Dove Trovata E' stato easy E' stato E' stato E' stato Dai Ecco E' vero si rinizia Ok io devo terminare il video qui Spero che vi sia piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi anche al canale Guarda la campanella E noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao ciao